Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video unboxing. Oggi video dedicato ad uno Toys in scala 1 a 6 direttamente dal mondo Marvel, in particolare dal film Spider-Man No Way Home. Sto parlando di questo bestione che non entra nemmeno in camera, ovvero Green Goblin Movie Masterpiece 631, nella sua versione Toys Deluxe, quindi quella con l'aleante. Cominciamo come sempre con l'analizzare della scatola e vi ricordo che l'ho acquistata ovviamente su ilcolossolinerd.com, link qui sotto in descrizione. Chissà se rispetterà le buone aspettative che ho, oppure se deluderà. Ed ecco qui la scatola gigantesca di questa Deluxe Edition di Green Goblin da Spider-Man No Way Home. E intanto vi chiedo scusa per il riflesso della luce che vedete qui sul fronte della scatola, dato purtroppo dal materiale liscio e riflettente di questa rappresentazione meravigliosa che troviamo qui sul lato destro. Bellissima tra l'altro con il nostro Green Goblin in primo piano e tanti altri elementi dei cattivi di Spider-Man del film No Way Home, come ritroviamo anche in altre box dei cattivi di Hot Toys. Infatti qui troviamo per esempio il fulmine di Electro, ovviamente il portale del Doctor Strange quando apre il multiverso e qui per esempio i tentacoli di Doc Ock. Nella parte bassa sinistra ovviamente Spider-Man No Way Home è il nome di Green Goblin e mi piace molto questa dualità tra i materiali che vengono utilizzati, cioè questa superficie liscia e riflettente e questa invece satinata e, come potete sentire, rubida. Dei colori caratteristici tra l'altro di Green Goblin che sono il verde e il viola, il porpora, che troviamo anche ovviamente su uno dei lati, qui vediamo sempre la solita dualità tra materiale liscio e riflettente, verde e il porpora invece viola. Sull'altro lato invece la continuazione della rappresentazione che troviamo sulla parte frontale della scatola. La dualità dei colori viene riportata anche sul retro con questa fascia centrale liscia e verde con questa bellissima immagine di Green Goblin e della maschera in primo piano. Invece nella parte superiore e inferiore solito materiale rubido di colore viola e qui un fulmine di Electro. Andiamo ad aprire, ragazzi, non so quanto riuscirò a farvi vedere l'apertura perché purtroppo la scatola è veramente enorme. Comunque come potete vedere si va a sollevare la cover per scoprire ovviamente la nostra doll nel blister. Come vedete c'è un sacco di roba dalla basetta, qui troviamo l'aliante di Goblin della Deluxe Edition e qui la nostra doll con quest'head scout che non vedo l'ora di vedere. Andiamo a vedere un attimino anche il retro di questa scatola che secondo me è bellissima. C'è il logo di Spider-Man enorme qui, la scritta Green Goblin Deluxe Version nella parte centrale, ovviamente il logo di Hot Toys. E c'è questa sorta di squarcio del multiverso che trovo affascinante con appunto i segni della magia del Doctor Strange. E questa sorta di fulmini, di nebulose, di nuvole, insomma di parti miste tra viola, giallo, bianco, insomma bellissimo questo effetto. Comunque ragazzi adesso andrò ad aprirla e a tirare fuori ovviamente gli accessori dalla scatola e cominciamo proprio da questi. Ed ecco qui la lista completa degli accessori a disposizione di Green Goblin. Ovviamente manca all'appello l'aliante a cui dedicherò una sezione apposita del video. Comincerei come al solito dalla basetta esagonale, ormai un classico per le doll della Marvel di Hot Toys. Sfondo satinato, materiale ruvido, rappresentazione di Green Goblin su sfondo urbano. E qui si può intravedere il pattern delle ragnatele in gran parte dello sfondo. Invece in primo piano la scritta Green Goblin, come vedete invece è lucida, riflette la luce. In questa doppia colorazione sempre di due sfumature di verde, più chiaro per la scritta Green, invece un po' più scuro, verde esmeraldo, che ricorda la tuta, la suit di Green Goblin, invece per la scritta Goblin. Nella parte bassa invece Marvel Studios Spider-Man No Way Home. E nella parte frontale di uno dei lati la scritta ovviamente bianco su nero Green Goblin. Molto leggera, classica basetta. Ovviamente è presente l'alloggiamento per uno degli stand che vengono forniti con questa Deluxe Edition. C'è ovviamente lo stand normale, che è questo, che permette di sorreggere l'aliante in questo caso. E poi Hot Toys ci fornisce una sorta di prolunga, questa qui, che va messa in questo modo, poi ovviamente può andare più giù, per andare ad inserire poi il vero e proprio supporto. Il vero e proprio supporto che con l'aiuto anche di questo morsetto a tenaglia, il solito che io consiglio sempre di utilizzare soprattutto su questi tipi di tuta, ma comunque può andare a ricreare la posa dinamica di volo del nostro Green Goblin. Quindi qui andrà messo l'aliante e poi sopra l'aliante ovviamente il nostro Green Goblin sorretto da questo supporto. Mettiamo un attimo via tutta questa impalcatura per dedicarci agli altri accessori. Abbiamo soltanto due paia di mani, quindi diventano tre con quelli presenti sulla doll, che sono semplicemente dei pugni chiusi. Qui abbiamo due mani aperte con le dita leggermente serrate, intanto possiamo già intravedere la qualità di queste mani. E poi queste invece per andare ad utilizzare le bombe zucca che vedremo fra un istante. Per quanto riguarda appunto la qualità dello sculpt e del painting delle mani, secondo me è sensazionale. La verniciatura, questa sorta di brillantezza che viene data al colore verde smeraldo, a me fa impazzire. Così come tutte queste parti scolpite a una a una per le dita. Davvero bellissime. Sono veramente molto soddisfatto, mi piacciono tantissimo queste mani. Poi abbiamo ovviamente, come dicevo poco fa, le bombe zucca. Ne abbiamo tre, ora ne prenderò solo una per esaminarla più nel dettaglio. Molto ben fatte, sono piccoline ma credo della giusta scala, della giusta dimensione rispetto a quelle viste nel film. Hanno questo sfondo dorato, il painting è veramente molto buono, con questi dettagli di verde. E le due estremità con queste parti anch'esse verdi. Con un colore che sinceramente sembra un po' specchiare la luce e sembra leggermente traslucido. Comunque ottima la qualità anche di queste bombe, mi piacciono davvero tantissimo. E poi veniamo al pezzo forte ragazzi che ho inserito tra gli accessori. Abbiamo ovviamente questo collo perché andrà a sostituire quello che c'è sulla doll. Questo che è il collo ovviamente più lungo per la maschera. Nel caso volessimo esporre il nostro Green Goblin con questo meraviglioso head sculpt. Io credo che siamo davanti a uno degli head sculpt più riusciti da parte di Hot Toys. Senza dubbio uno dei migliori della mia collezione ad oggi. Come vedete appunto può essere montato sulla doll andando ad inserire poi il collo all'interno della apposita sezione. Adesso andrebbe sistemato un po' meglio ma più o meno l'idea è questa qui. Dicevo, qui siamo di fronte secondo me alla perfezione di un head sculpt davvero davvero incredibile. La somiglianza con Willem Dafoe è strabiliante. Guardate il dettaglio dei denti che sono perlati. C'è anche lo spazietto caratteristico dell'attore. Si intravede anche l'arcata inferiore e la lingua al suo interno. Le fattezze delle rughe, le macchie sulla pelle, lo sguardo con occhi che come vedremo fa poco comunque possono essere rotati. Le varie macchiette e le rughe anche sulla fronte, sul contorno bocca, contorno occhi. Davvero impressionante, ottimo lavoro toys. Quando ti ci metti veramente riesci a realizzare delle vere e proprie opere d'arte. Mi stavo tra l'altro anche impappinando. Cosa colpisce anche di quest'head sculpt? Ragazzi non ce la faccio a parlare, chiedo scusa. Sono anche i capelli. Guardate le fattezze di questi capelli che sono scolpiti veramente a uno a uno. Cioè sono incredibili. Sia nella parte frontale dove tra l'altro la plastica morbida può essere leggermente spostata. Per vedere anche il resto della fronte. Sono davvero bellissimi sia da questa parte che ovviamente su tutta la superficie della testa, su tutta la parte del capello. Guardate che bella e soprattutto non si nota questa cosa che sto per fare ovviamente. Quando andiamo a richiuderlo, comunque adesso ci farete più caso ovviamente, ma comunque da una prima occhiata era veramente difficile almeno per me andare a vedere il gap. Per andare appunto ad aprire la parte posteriore della testa, dei capelli, che viene attaccata con un magnete come vedete. Per poter andare a ruotare gli occhi con il solito strumento che viene fornito da Hot Toys. Che è questo che abbiamo visto in tantissime altre doll che vedremo sempre più spesso. Perché questa cosa degli occhi che si ruotano ormai è diventato una caratteristica fondamentale di ogni doll rilasciata. Quindi davvero molto molto contento di quest'head sculpt, ma degli accessori in generale. Molto semplici, non c'è tantissima roba come è giusto che sia per Green Goblin. Quindi questa ovviamente io non andrò a esporlo con questa testa, ma ho già un'idea che probabilmente vi dirò a fine video. Ma prenderò probabilmente un altro body per valorizzare questa doll, questo head sculpt. L'aliante è bellissimo e anche molto molto grande. Ottimo il lavoro che è stato fatto sia nella realizzazione in sé delle varie parti metalliche e non, sia per quanto riguarda il painting. Si alternano infatti queste sezioni, questo viola è una particolare texture piacevole al tatto e anche abbastanza ruvida, a parti invece lisce, metallizzate, con, come vedete, della puntinatura, dei segni di usura, dei segni di sporco, che rendono molto l'idea del metallo. Quindi davvero ottimo lavoro, mi piace davvero tanto. Ovviamente entrambe le ali possono muoversi. Cerco sempre di fare massima attenzione, ragazzi. E come vedete, appunto, le varie sezioni, le varie parti che troviamo all'interno, sono davvero molto ben realizzate. E' molto luminoso, cioè questa pittura, questa verniciatura metallizzata, viene parecchio fuori, è molto luminosa. Non so quanto renderà in camera, ma vi assicuro che è davvero molto molto ben fatta. Poi ovviamente troviamo anche diversi dettagli, dalle ventole ai missili, che purtroppo non sono rimovibili, quindi sono fissi nella struttura. Poi qui vi è il vano batterie, con, appunto, le tre batterie che vengono fornite da Hot Toys, che possono, che permettono all'alleante di essere illuminato in tre sezioni, queste due parti delle ali e questa centrale. E poi, ovviamente, potete valutare da voi la quantità di dettagli che possiamo trovare in queste parti. Davvero ottima la realizzazione. Così come anche la parte con i propulsori, con i reattori, qui sulla parte posteriore. E vorrei soffermarmi un attimo sulla parte, invece, superiore, perché qui ci sono le due parti che sono ovviamente mobili e adattabili alle varie pose che vogliamo dare al nostro Green Goblin e la doll può essere ovviamente messa sull'alleante tramite questi peg. Vi sono al di sotto dei piedi di Goblin, dei fori ovviamente, per allocare la doll su queste pedane. Ovviamente qui si può alzare la parte superiore, quindi ci si mette il piede e poi si va a mettere in sicurezza andando a chiudere. Qui c'è un'apposita sezione, appunto, che si chiude in questo modo. Non è stato facilissimo, sinceramente, forse è un problema della mia doll, non è stato facilissimo rimuovere dalla sede questa parte. Ma comunque la plastica è anche abbastanza morbida in questa sezione, quindi è facile anche comunque adattarla alla posizione che vogliamo dare al Green Goblin. Poi un'altra chicca è la presenza di questi vani che possono essere rimossi per andare a metterci poi le bombe zucca. bombe zucca che possono essere inserite in questo modo e quindi magari se volete potete lasciarlo così in esposizione con la bomba che è visibile, oppure potete comunque andarla a richiudere in questo modo, sapendo che comunque dentro ce ne sono una per ogni vano. Vengono fornite tre bombe zucca, quindi possono essere inserite due bombe qui all'interno e una magari in mano al nostro Green Goblin. Poi massima attenzione anche a queste parti che sono molto appuntite ma anche abbastanza fragili, come vedete sono mobili, anche nella parte laterale, nell'estremità delle ali, davvero molto ben fatte anche queste sezioni, ma ecco, attenzione, massima attenzione a come si maneggiano queste parti. Comunque davvero sono colpito dalla qualità e non mi sono pentito assolutamente di aver preso la Deluxe Edition, anche se pagata un po' di più, ma per questo aliante davvero ne vale la pena. E veniamo finalmente a Green Goblin, alla nostra doll che a primo impatto è davvero molto molto ben realizzato. A primo impatto però mi salta all'occhio subito un difetto, anzi almeno un paio. Il primo è riguardo la colorazione. Nulla da dire, davvero bellissimo con questo verde smeraldo che riflette molto in alcune parti, soprattutto queste, diciamo, un po' più rigide, quindi queste del pettorale, degli spallacci, dell'addome, di cui parleremo fra pochissimo, ma la colorazione secondo me non è proprio azzeccatissima, perché Goblin ha qualche riflesso di luce sul porpora, diciamo, sul viola porpora e anche un po' di arancione, cosa che qui invece non vedo. Vedo semplicemente una colorazione verde smeraldo, che ripeto, è bellissima, ma non molto fedele secondo me. Poi, ragazzi, per quanto riguarda l'elmo, il casco secondo me è eccezionale. Qui c'è una retina, non so se riuscite a percepirla, che teoricamente dovrebbe permettere di vedere l'interno del casco, quindi la bocca di Willem Dafoe. Io adesso vi faccio vedere se riesco, perché all'interno vi è veramente un pezzo di head sculpt, praticamente, con la bocca ed il naso di Willem Dafoe. Però, secondo me, non è molto visibile. Stessa cosa, gli occhi non sono rimovibili, e quindi non si può vedere l'interno. Andiamo un attimo a provare a fare questa cosa, staccando ovviamente la testa. Come vedete, all'interno vi è questa parte qui. Attraverso lo strumento che serve anche per ruotare gli occhi, se non mi sbaglio, si fa in questo modo, e praticamente, ecco, andiamo a rimuoverla. E qui, come vedete, c'è una cosa abbastanza inquietante, ma c'è la bocca ed il naso di Willem Dafoe. E come vedete, la differenza non è poi, ovviamente adesso non c'è nemmeno, ma se andiamo a rimetterlo su, non c'è una grande differenza. Quindi l'interno non si vede, a meno che non lo mettiamo, come vedete, in questo caso, in questo modo si vede il bianco, ok, esterno. Comunque, insomma, niente di eccezionale per quanto riguarda questa cosa, mi fa storcere un pochino il naso. Poi, per il resto, invece, il casco, scusate, è bellissimo, sia nella forma che nella colorazione. Ci sono alcune parti che sono un po' sporcate, alcuni segni di usura. L'avevo molto molto bello, è anche le varie linee del naso, delle orecchie, davvero segue una linea bellissima, una linea molto fedele, tra l'altro, alla versione che abbiamo visto in No Way Home. E, davvero, sono molto soddisfatto di quest'elmo. Anche la colorazione degli occhi mi sembra azzeccata ed i denti che hanno questo painting metallizzato. Poi, scendiamo verso, appunto, questa parte del colletto, che, come dicevo, nella sezione accessori può essere sostituita, qualora volessimo andare a mettere l'head sculpt senza casco. basta andare a rimuovere eventualmente gli spallacci che sono attaccati con il velcro. Andare, poi, adesso lo rimetto ovviamente, andare a sollevare questa parte, sostituire con la testa, prima mettendo quest'altro accessorio che vi ho fatto vedere in precedenza, e poi si potrebbe mettere, appunto, la testa di Defoe. Comunque, per il resto, ragazzi, io sono molto soddisfatto, sono molto belle queste parti, come vi dicevo, rigide. La parte del petto, delle spalle e dell'addome. Queste, degli addominali, diciamo, obliqui, della parte laterale del costato, sono incollate. E il materiale, in generale, della doll sembra essere quello delle tute degli Spider-Man, quindi una sorta di spandex. Materiale, comunque, un tessuto elasticizzato. Bello anche il dettaglio sulle braccia e queste parti dorate che ritroviamo non solo sulle braccia, ma anche poi sulle gambe. La parte posteriore, anche qui abbiamo quel materiale, ovviamente tutta la tuta è fatta in quel modo, intanto magari vado a rimuovere queste parti, che ho dimenticato di togliere, ragazzi. E comunque, appunto, le fattezze del costume in generale mi piacciono tantissimo. Fa un minimo di difetto qui all'altezza dei polsi, ma nulla di particolare. Per fortuna c'è il peg che è di questa colorazione verde scura, che quindi nasconde il tutto molto molto bene. Anche le gambe mi piacciono tantissimo, mi piace la resa di queste parti più rigide, che accompagnano tutta la gamba, mentre sulla parte laterale, ripeto, questi dettagli dorati che mi piacciono veramente, veramente tanto. Ho un po' di timore per pose un po' più dinamiche, appunto, per questa cosa. Sapete io quanta ansia abbia per queste cose, quindi cercherò purtroppo di tenerlo il più disteso possibile, almeno questo materiale. Stessa cosa che si ripresenta, così come sui polsi, anche nella parte bassa che vediamo qui all'altezza degli stivali, delle caviglie. Qui si formano una sorta di piega che quindi va stesa, ma poi inevitabilmente, scusate, quando si va a mettere su il piede, si va a ricreare. E questa cosa, non so se a lungo termine, potrebbe a lungo andare, potrebbe creare dei problemi. Per il resto, ragazzi, sono veramente colpito dalle fattezze di questo goblin. Purtroppo non è perfetto, avrebbero potuto avere un po' più di cura sia nel painting che nelle fattezze di alcune parti, soprattutto del casco, però ragazzi, davvero, sono piccolezze, è davvero un ottimo pezzo. Anche le proporzioni, ovviamente, sono molto buone, sono abbastanza azzeccate, e nulla da dire. Quindi andiamo direttamente con le articolazioni, partendo ovviamente dal casco, che è dalla testa, che può essere ruotata in questo modo, può andare in basso di abbastanza, anzi, molto, e in alto, invece, di parecchio. Poi, può ovviamente ruotare anche lateralmente, butterfly joint alla spalla, braccio, che cercherò di stare attento, può andare verso l'alto, ma massima attenzione, appunto, a non strecciare troppo il costume. Intanto possiamo, volendo andare a rimuovere, come vedete, lo spallaccio che si attacca tramite velcro per facilitare un pochino la mobilità. Qui bisogna rimettere a posto tutto. Poi, doppia articolazione al gomito, che permette di superare i 90 gradi, rotazione del bicipite. rigide. Poi, rotazione anche del torso, ma molto limitata da queste parti rigide, quindi non si può ruotare chissà quanto e con chissà quale libertà. Si può andare anche verso il basso, stagendo sempre massima attenzione a queste parti, e anche all'indietro, anche qui, molto limitata. Per quanto riguarda le gambe, possono andare verso l'alto, ma non ho intenzione di andare oltre, ragazzi, mi dispiace, ma questo è un altro difetto. Secondo me, questa parte rigida, nel momento in cui si va ad alzare, va ad affondare nel materiale, nello spandex, nel materiale di cui è fatto la tuta. Anche qui, purtroppo, sarà limitato il posing per questo motivo, almeno per quanto mi riguarda, perché io, sapete quanto ci tenga, e quindi, purtroppo, non andrò a posarlo con le gambe piegate, e questo potrebbe essere un problema per l'aliante. Comunque, rotazione anche della gamba, del quadricipite, ovviamente, si può piegare, doppia articolazione del ginocchio, e peg a sfera, anche per quanto riguarda la caviglia, che quindi, il piede è libero di rotare in tutte le direzioni. Poi, dimenticavo, per le braccia, ragazzi, ovviamente, possono essere alzate, facendo sempre massima attenzione alla spalla. Articolazioni, quindi, decenti, non il massimo della mobilità, non il massimo della libertà di movimento, soprattutto se ci tenete a tenere in una posizione per tanto tempo il vostro Green Goblin, quindi massima attenzione, ragazzi, per questo tipo di materiali, purtroppo, molto limitate, appunto, dalla tipologia di materiale ed alcune scelte come questa. Non so come si sarebbe potuto fare altrimenti, sinceramente, ma comunque, purtroppo, da questo punto di vista non c'è grande libertà. non c'è grande libertà. Ed eccomi di nuovo qui ragazzi per le conclusioni finali su questa versione di Green Goblin Come vedete è già in vetrina anche se non nella sua posa finale Perché il pezzo sarebbe stato troppo ingombrante da mettere qui sul tavolo davanti a me Come faccio di solito per le conclusioni dei miei video Il primo problema di questo Green Goblin secondo me è dato proprio da quello Cioè Hot Toys non ci ha dato la possibilità di andare a modificare l'altezza dello stand Ci ha dato uno stand standard uguale per tutte le figure Per quanto riguarda l'aliante perché solo l'aliante arriva in altezza più o meno a 23-25 cm Non l'ho misurato ma più o meno l'altezza è quello Potete anche constatarlo voi visto che comunque raggiunge quasi l'altezza di Goblin Lo vedete alle mie spalle Quindi nel caso come il mio per esempio io non potrò mai posare Goblin sull'aliante O dovrei mettere l'aliante a terra e posarci sopra Goblin Ma è una cosa abbastanza antiestetica Per dare il senso del movimento, del volo dell'aliante Ovviamente bisogna tenerlo sullo stand appoggiato alla basetta come dicevo in fase di recensione di unboxing Quindi la possibilità di avere uno stand accorciabile, allungabile in base alle esigenze sarebbe stato l'ideale Potrò farlo io, potrò procurarmi un altro stand più corto, potrò fare un lavoro su quello che è già esistente Però ecco, è giusto dire che questa possibilità mi sarebbe piaciuta averla Poi, il colore dell'armatura, secondo me, ripeto, non è azzeccato per quanto riguarda le sfumature del viola e del giallo Che mancano E anche per la posabilità per chi come me ha qualche problema d'ansia dovuto al materiale delle doll Per non farlo rovinare Praticamente le gambe non possono piegarsi perché c'è quella parte rigida che va a conficcarsi all'interno del materiale E a lungo andare, 100% succede qualcosa a quel materiale Si va a danneggiare, si va a rompere, a graffiare e questa cosa sinceramente non mi va Quindi, queste sono più o meno le cose che mi hanno deluso Qualche imperfezione sul casco, come dicevo Però, detto questo, ragazzi, rimane una bellissima doll L'aliante è fenomenale, è fantastico È modificabile nella forma, scusate, non nella forma Sì, anche nella forma, nell'angolazione delle ali Il painting è meraviglioso La possibilità, quelle chicche, la possibilità di mettere le bombe zucca all'interno degli appositi vani Insomma, ci sono tante piccole perle, così come appunto anche sulla tuta stessa di Goblin E poi, l'Head Scoot di William Defoe Che è un capolavoro, ripeto, secondo me è uno dei migliori realizzati finora Poi ci saranno ovviamente delle nuove release che magari lo soverchieranno Però, davvero, è perfetto Meraviglioso, la possibilità poi di ruotare gli occhi Dà a quell'espressione di Defoe ancora più Più espressività, appunto E quindi, davvero ottimo lavoro Purtroppo, appunto, queste imprecisioni Questi Questi difetti, insomma, non lo rendono una figura perfetta Ai miei occhi, almeno è secondo la mia opinione Detto questo, ragazzi, fatemi sapere voi, invece, che cosa ne pensate Se ce l'avete in collezione E sono curioso di sapere come l'avete posato Io vi saluto Ci vediamo, come al solito, ad un prossimo appuntamento sul canale Mettete mi piace al video se vi è piaciuto Mi dispiace Probabilmente questo video sarà un po' più lungo rispetto al solito Ma le cose da dire sono state tantissime E ho anche un po' di febbre, vi devo dire Quindi non è stato proprio il massimo della gioia Fare questo video in questo momento Spero, appunto, che vi sia piaciuto comunque Mettete mi piace Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto E ci vediamo, come al solito, ad un prossimo video Ciao, raga A presto Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao